Interviene Mino Borracino, Assessore della Regione Puglia allo sviluppo economico. La Regione continua ad investire per la crescita economica ed occupazionale della provincia ionica, dall'aggiunta 3 milioni di euro per un importante progetto industriale nel campo dell'aeronautica a San Giorgio Ionico, in provincia di Taranto. Il progetto potrà beneficiare di cospicue risorse pubbliche a valere sul POFESR 2014-2020. Si tratta dell'iniziativa proposta dall'impresa Lavorazione e Materiali Compositi, LMCSPA, società con sede legale in provincia di Napoli, che svolge la sua attività nell'ambito della progettazione, costruzione e collaudo di parti in materiale composito in ambito aeronautico, oltre che della installazione e montaggio di parti anche complesse di aerei ed elicotteri. Si conferma pertanto la grande importanza del distretto dell'aeronautica nella provincia di Taranto, con numerose attività imprenditoriali che rappresentano oggi un'eccellenza di straordinario pregio, in grado di garantire anche molti posti di lavoro. In questo caso l'investimento complessivo è di circa 7 milioni e 500 mila euro, con un finanziamento pubblico pari a 3 milioni di euro e con una previsione di incremento occupazionale a regime di 55 unità lavorative. E conclude così Borracino, noi crediamo che continuando ad investire in progetti di innovazione e ricerca proposti da attività imprenditoriali impegnate in settori ad alto valore aggiunto, come quello dell'aeronautica, sarà possibile aumentare la competitività del nostro sistema produttivo determinando sviluppo economico e crescita occupazionale.